Sollevato sulle punte, Pinocchio stava cercando di guardare fuori dall'oblò dell'astronave che l'aveva portato fin lì. Nelle orecchie sentiva ancora il ronzio del balzo. Prima di partire glielo avevano spiegato che cos'era e che cosa avrebbe avvertito, ma era stato peggio di quanto si fosse aspettato. Forse non aveva capito bene. Quelle persone parlavano così veloce e così difficile, che non sempre riusciva ad afferrare bene i loro discorsi. Se la cavava meglio a osservare. Sì, era sempre stato un acuto osservatore, di poche parole. Il ronzio alle orecchie divenne più fastidioso, unito a una stretta allo stomaco. Non sapeva quanto fosse distante da casa. Gli avevano detto che il balzo serviva a coprire enormi distanze nello spazio, ma lui, fino a un momento prima di mettere piede su quella nave. Neanche sapeva che ci fosse uno spazio, che ci si potesse viaggiare, che ci fossero altre case. Non sapeva se era giusto chiamarle così. Era sempre vissuto nella sua casa, fino a quando non aveva compiuto sette anni. Allora lo avevano affidato a Mangiafuoco, che lo aveva caricato sulla sua nave. Gli aveva fatto fare il balzo e lo aveva portato fino a lì. Andiamo sulla terra, ragazzo mio, e tu mi frutterai un bel po' di quattrini. E poi si era messo a ridere, quella risata fragolosa che aveva imparato a riconoscere e che non prometteva nulla di buono. Adesso erano arrivati sulla terra, a quanto pareva. Lui, insieme a tutti gli altri che Mangiafuoco aveva portato. Lui era già sceso a terra e poteva vederlo parlare con un gran signore molto grasso, che indossava un cappotto rosso chiuso sul davanti da due file di bottoni dorati, spessi guanti marroni e un cappello a cilindro calato sulla testa. Ai lati della testa spuntavano ciuffi di capelli grigi e ricci. Decise che quel uomo non gli piaceva, non più di quanto gli piacesse Mangiafuoco. Le gambe cominciavano a dolergli, quindi si allontanò dall'oblò e lasciò la sua celletta. Il corridoio era invaso dall'odore stomachevole dei motori in fase di raffreddamento, il che contribuì a farlo stare ancora più male. Raggiunse la sala comune e individuò Lucignolo, seduto a uno dei banchetti, intento a colorare. «Non sei curioso di sapere cosa c'è là fuori?» gli chiese Pinocchio avvicinandosi. Il bimbo sollevò su di lui i suoi occhi azzurri, che spiccavano su un volto rosio e soffice, contornato da capelli piondissimi. Scosse la testa e tornò a colorare. Fu il primo a lasciare la nave. Pinocchio era certo che sarebbe stato lui il primo. Lui aveva cinque anni ed era molto più bello di lui. Poi fu la volta dei gemellini di pochi mesi, che avevano fatto l'intero viaggio nelle loro cullette, affidati alle cure di una signora molto gentile, che però non gli aveva mai rivolto le parole, nonostante tutti i suoi tentativi. L'aveva vista più volte occuparsi anche di Lucignolo. In fondo, chi poteva resistere al suo bel faccino? Pinocchio aveva scoperto di essere geloso e se ne era vergognato. Quando fu la volta della bambina di due anni che aveva pianto per l'intero viaggio, Pinocchio fu felice di vederla lasciare l'aeronave. Una dopo l'altro, tutti i bambini che Mangiafuoco aveva caricato scesero a terra e furono affidati alle cure dell'uomo grasso, che era arrivato su un grosso carro fatto di lucido metallo nero e trainato da quattro cavalli robot antessi neri. Quando Mangiafuoco venne a prenderlo, Pinocchio seppe che era arrivato il suo turno. «Coraggio, ragazzo, vieni con me!». Pinocchio si mosse esitante dietro l'immensa figura dell'uomo. Non aveva molta voglia di scendere, ma non aveva neanche il coraggio di dirglielo. Aveva paura di Mangiafuoco, di quella sua faccia coperta quasi interamente da una barba nerissima. Quando fu davanti all'uomo grasso, questi fece una smorfia di disprezzo, quindi lanciò uno sguardo a Mangiafuoco e poi tornò a guardarlo. «Qual è il tuo nome?». Pinocchio alzò su di lui i suoi occhi cangianti e gli rivolse quello sguardo che ormai lo sapeva bene, metteva assai a disagio le persone. Ma l'uomo grasso sostenne il suo sguardo e alla fine fu lui a sentirsi a disagio. «Pinocchio», mormorò tornando a fissare il terreno. «E quanti anni hai? Sette? Sette. Mangiafuoco, potresti pure insegnare ai tuoi mocciosi a mentire. Sette anni? Ne dimostra appena cinque e possiamo benissimo farlo passare per un bambino più piccolo. Ma se questo si mette a snocciolare la verità come sta facendo con me, chi vuoi che lo paghi? Ha sette anni? È vecchio?». Pinocchio lo fissò in credulo e prese a tastarsi la faccia. Che il viaggio e il balzo gli avessero fatto crescere la barba? Ma vide che non c'era nessun pelo. Gli uomini vecchi hanno i peli, ma lui, lui era solo un bambino. L'uomo grasso prese a osservarlo. Gli occhi erano asimmetrici e i colori diversi. La pelle piuttosto scura, ma qui e là chiazzata di bianco, come se il colore non fosse bastato. O almeno questo era quello che Pinocchio aveva sempre pensato, guardandosi allo specchio. Una delle sue gambe era più corta dell'altra e che gli conferiva un'andatura claudicante. I capelli erano in parte neri, in parte biondastri, senza alcuna forma. «No, no, neanche facendolo passare per un bambino più piccolo ci ricaviamo qualcosa», disse l'uomo infine, scuotendo energicamente la testa. «Non potevi portarmi un altro come quel lucignolo? Quello sì che l'avrei piazzato bene, ma questo?» «Mangia fuoco, ma l'hai guardato?» Pinocchio rivolse lo sguardo verso di lui, ma questo neanche lo guardò. «Certo che l'ho guardato. Io non lo volevo, ma hanno insistito perché lo prendessi e lo portassi qui, sulla terra, dove mi hanno assicurato. Un posto glielo troviamo sicuramente. Adesso tu non puoi rifiutarti di prenderlo. Pagami il dovuto e sparisci». «Non ci penso nemmeno. Non erano questi i patti. Tu hai taciuto la verità. Ti darò la metà del prezzo pattuito per questo rifiuto di laboratorio». «Che cosa diavolo credono di fare lassù? Si sono messi a giocare con le provette?» «Quel che fanno non è affermio, neanche tuo». «Sì, che affermio. La gente qui paga per avere figli perfetti. Vai, bambini, rosei e paffutelli, biondi, se è possibile, gemelli, eccetera. Non per sgorbi come questo». L'uomo grasso tacque, rosso in viso. Pinocchio era tornato a fissare il terreno, gli occhi gonfi di lacrime. «Prenditi quello che sono disposto a darti, mangia fuoco, e vattene. Tornatene lassù e di loro che facessero un uso migliore di tutti quegli ovuli e spermini, perché qui c'è gente che aspetta. No, se non lo vuoi a prezzo intero, lo riporterò indietro. Un posto glielo troveranno lassù». «Sì», disse l'uomo sogghignando, «immagino già che bel posticino gli troveranno lassù, sdraiato su un lettino, squartato come un maiale e venduto a piccoli pezzi. Fa come vuoi, mangia fuoco, io me ne vado. Ho un mucchio di cose da fare e ho già perso sin troppo tempo». Pinocchio osservò l'uomo grasso salire sul suo carro e allontanarsi lentamente. Si sentì afferrare per il polso. Mangia fuoco lo stava trascinando verso l'astronave, ma lui cominciò a puntare i piedi e a strillare. «Lasciami, lasciami, non voglio andare!» «Oh sì, tu verrai con me senza fare tante storie!» «No, lasciami, non voglio essere squartato come un maiale! Io non sono un maiale, sono un bambino! Hai capito? Sono un bambino! Sono un bambino!» Ma mangia fuoco sembrava non sentirlo e continuò a strattonarlo. «Sì, fermi!» Quella voce arrivò da dietro alle loro spalle. Mangia fuoco si girò furibondo, continuando a stringere il polso di Pinocchio. «E tu che vuoi?» chiese rivolto all'uomo che li aveva chiamati. «Voglio quel bambino, lo prendo io e lo pagherò il prezzo che vorrà!» Mangia fuoco squadrò il nuovo arrivato. Indossava una tunica marrone molto vecchia a giudicare dai numerosi punti in cui era stata ricucita. Una cintura di corda bianca gli stringeva la vita e un cappuccio gli scendeva dalle spalle. Aveva la barba, ma era un uomo giovane. «Perché lo vuoi?» «Ti interessa, forse? Lo voglio e basta. E a te interessa solo ricevere un giusto prezzo, no?» disse l'altro uomo avvicinandosi e mettendogli in mano alcune monete d'oro. Mangia fuoco se ne mise in bocca, quindi lasciò andare Pinocchio, che si scostò velocemente da lui, massaggiandosi il polso. Poi si girò e se ne andò, senza aggiungere una parola. «Ti ha fatto male?» gli chiese l'uomo. Pinocchio lo guardò con sospetto. «Sì, ma non fa niente. Tu chi sei? Perché mi hai comprato? Io non...» cercò di dire mentre le lacrime gli uscivano dagli occhi. «Io sono un bambino. Non sono della terra. Vengo da lontano, ma sono un bambino.» «Ma certo che lo sei. Stai tranquillo. Io non voglio farti del male.» L'uomo si chinò verso di lui e in quel momento una piccola croce di legno scivola fuori dalla tunica e penzolò nell'aria. «Io sono Francesco. Tu come ti chiami?» «Io sono Pinocchio. Vieni con me. Ti porterò in un posto sicuro. Lì nessuno ti farà del male e incontrerà gli altri bambini come te.» Pinocchio annuì incerto, ma poi prese coraggio e prese la mano che l'uomo gli stava porgendo. Lui con la sua andatura claudicante e l'altro dal passo sicuro si allontanarono dalla pista di atterraggio.